Si è svolta questa mattina nell'auditorium comunale la manifestazione conclusiva dell'attività svolta nell'anno scolastico dalla Polizia Municipale all'interno delle scuole elementari della città. Un'iniziativa nata otto anni fa, che si caratterizza per un tema diverso, che cambia ogni cinque anni. Quest'anno si è puntato sulla mobilità alternativa, titolo Muoversi senza motori, un argomento molto in voga soprattutto quando si parla di risparmio e diminuzione di inquinamento atmosferico. San Benedetto è purtroppo famosa per il frequente superamento dei limiti di PM10, ossia le polveri sottili che danno vita all'inquinamento dell'aria che respiriamo. L'amministrazione comunale, in collaborazione con la Polizia Municipale, ha pensato di diffondere già dai primi anni di scuola le regole di educazione stradale. Ne è nato così un concorso a premi, con quiz e disegni, per meglio coinvolgere i più piccoli. Sentiamo il comandante dei vigili urbani di San Benedetto, Giuseppe Coccia. Fra tutto tocchiamo oltre 4.000 ragazzi, quindi dalla scuola dell'infanzia fino alle scuole superiori. È un'attività che ci qualifica, in cui l'amministrazione crede e soprattutto che ci dà soddisfazione, perché avete potuto vedere, insomma, la partecipazione è importante, i bambini sono contenti e soprattutto, come sottolineava anche uno dei dirigenti scolastici, c'è un ritorno da parte dei bambini. Le quinte classi elementari delle città hanno quindi invaso oggi l'auditorium per la premiazione finale. Ospite d'eccezione è il calciatore della Samba Ottavio Palladini, applauditissimo dai bambini in cerca di un suo prezioso autografo. Non sono mancati nemmeno i momenti di ironia, con l'animazione di Massimo Ciocchetti, in arte ciogo, fantasista del teatro movimento buffo, ma anche momenti di insegnamento ed apprendimento, che hanno visto i bambini riflessivi e concentrati. Il comandante Coccia ci svella il segreto. Hanno detto che ascoltano più i vigili che non le maestre, questo ci fa sicuramente onore.